permesso buonasera sono arrivato un po' tardi un classico e allora? ma se ci stai filmando qui è Real TV dobbiamo fare l'intervista oltretutto considerando che Cagliari è la seconda città d'Italia candidata all'Olimpia di 2024 questa è la news nuova fresca fresca se quello che stavamo facendo stiamo programmando tu lo sai che da tanto andiamo al solo scusa Paolo sento Pier Giorgio ci mettiamo forza grazie a tutti 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 grazie a tutti